Sono le 12 e un quarto in questo momento in tutti i locali d'Italia aderenti alla Confcommercio e alla Feder Distribuzione si spengono le luci, viene staccata la corrente, questa protesta per il caro Bollette Padovano. È una protesta simbolica per far arrivare un messaggio forte alle compagnie, al governo che si deve attivare subito per fare nel decreto aiuti un'intervento a sostegno delle nostre attività perché rischiamo, così come sta dicendo la canzone, l'estate sta finendo ma finisce tutte le imprese che ci sta nel circondario italiano che è legato alla grande distribuzione anche. Da questo momento inizia la protesta perché noi vogliamo dimostrare a tutta l'opinione pubblica quanto è importante la presenza delle imprese e quanto è importante l'energia. Non si può dell'energia giocare a scacchi ad Amsterdam e giocare sulla pelle di tutto il paese. Quindi se c'è un problema politico internazionale è giusto che il governo Draghi intervenga subito con almeno 30 miliardi perché è la somma sufficiente per arrivare a fine anno. Sperando che questi conflitti internazionali finiscono al più presto e speriamo che dopo una pandemia ha fatto più danni il caro bolletto che due anni di pandemia alle imprese. Le bollette in vetrina sono servite a far capire di più quanto noi le imprese sta attraversando. Quindi c'è bisogno che le società ci diano più tempo per dilazionare, per fare una rateizzazione. Non possiamo essere considerate per le imprese dei numeri e quindi per il nostro settore che è uno settore dove la programmazione dei prezzi avviene nei mesi di marzo e quindi noi abbiamo venduto dei pacchetti turistici alle condizioni di marzo. Quindi questa preoccupazione deve interessare solo la Confcommercio e la fede di distribuzione o deve interessare di più adesso in questo momento gli appelli che stanno facendo i partiti a Draghi. Draghi deve mettere in piedi questo benedetto decreto.